C'è aria, Andrea, di grandi cambiamenti, me lo confermi? Sì, 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 abbiamo, quest'anno è stato, diciamo che abbiamo un po' segnato il passo, ecco, dopo undici anni di dirigenza, di allenatori, abbiamo un po', diciamo un po', tutti insieme, eravamo anche un po' stanchi e un po' per cercare di tirare fuori un po' di nuova linfa, nuovo entusiasmo, per cui siamo partiti qualche mese fa, nel momento in cui dovevamo cominciare a decidere su una nuova stagione, abbiamo preso la decisione, in pratica tutto è nato da un'idea di Cirio Girardelli, che è un po' così deluso da quello che era stata l'annata di quest'anno, ha fatto questa proposta a tutti di fare un passo indietro, di provare a cambiare, a rimiscolare un po' le carte in tavola e quindi siamo partiti, sì, con alcune cabine, giocatori, un po' per vari motivi, quest'anno ci saluteranno Julian Tamborindeghi e Pippo Fongaro, che hanno, ci hanno deliziato in questi due anni, e quindi arriveranno nuovi giocatori, i nomi in questo momento che posso dirvi sono quelli di Juan Velasquez, che è un giovanissimo portiere argentino, e di un altro ragazzo argentino, Valentino Marzonetto, che arriva da Casa Italia, un'altra squadra argentina, era già stato, già stato selezionato da noi lo scorso anno, poi per motivi di quantità di, di stranieri non abbiamo potuto tesserarlo, e l'anno prossimo debuterà in una squadra che comunque torna ad essere molto giovane, un po' come quella di, di un 4-5 anni fa, quando un po' avevamo rivoluzionato con una squadra inizialmente anche tutta italiana, e poi abbiamo veramente ben difeso i colori del Monza, anche nella Eurolega di Hockey, che è un po' la Champions, andando a giocare contro il Porto, contro il Benfica, e le novità più importanti di quest'anno poi saranno soprattutto in panchina, perché dopo 11 anni abbiamo pensato di cambiare qualche cosa anche nella direzione tecnica, arriverà Ivan Giacchierz, un tecnico argentino, ma che sta lavorando nel Porto come, come, come allenatore, dentro nel team degli allenatori del Porto. Come mai questa svolta straniera, Andrea? Eh, perché volevamo trovare innanzitutto una persona che seguisse non solo la prima squadra, ma che facesse un po' da cassa di risonanza e seguisse, avesse voglia di seguire tutto il settore giovanile. Noi l'anno scorso siamo partiti con un bel progetto, abbiamo responsabilizzato un nuovo gruppo di dirigenti, per lo più genitori o simpatizzanti, che ci stanno dando una mano, quest'anno se la sono cavata più che bene, perché stati bravissimi, e quindi abbiamo, finalmente dopo tanti anni, abbiamo un bel po' di bambini nel settore del mini hockey avviamento, e quindi abbiamo bisogno di una persona che li seguisse sin dall'inizio, perché comunque c'era bisogno. E quindi questa scelta di Giacchierz sarà coaduato da Albert Ricciarda, che è il nostro preparatore e secondo allenatore, e da Stefano Cavallari, che sostituirà di fatto Ciro Girardelli come direttore sportivo. Ovviamente Girardelli con la Maria e io continueremo a seguirli facendo altre cose per la prossima stagione, e vediamo come va, insomma, cerchiamo di dare una svolta. C'è una domanda, Andrea, poi voglio arrivare anche alla casa dell'hockey, perché comunque se ne hai parlato tanto. C'è Andrea Piani che ti chiede se ci sono prospettive per il prossimo anno, per entrare stabilmente nei play-off. Bisognerà vedere come lavorerà l'allenatore. Secondo me i presupposti devono partire da lì. In questo momento lui è molto entusiasta di iniziare, perché lo abbiamo incontrato. Io ci ho parlato al telefono, Ciro Girardelli lo ha incontrato in Portogallo questo fine settimana, e bisognerà innanzitutto vedere, conoscersi, vedere come lavora, perché adesso sulla carta si può dire tutto e niente. Secondo me ci sono sempre presupposti per entrare ai play-off se si crea un bel gruppo, e credo che i presupposti per fare qualcosa di buono ci siano. Senti, Andrea, ultima domanda, e poi ti lasciamo anche perché credo che tu ti debba preparare psicologicamente. Non vai a Roma, immagino, domani? O parti domani mattina? No, domani non vado a Roma, però sto pensando di andare a Bergamo. A Bergamo vedere la partita al mazzischermo. Ma a Dublino andrai? Eh no, purtroppo due trasferte di fila non me le lascio. Non ce la fai, non ce la fai. Va bene, bisogna dire che l'Atalanta ha costruito le sue fortune anche da quando ha migliorato lo stadio. Come siamo avessi invece con la casa dell'HRC Monza? Ci sono delle novità in questo senso, Andrea? Sì, vabbè, allora il comune di Biassono negli anni scorsi, grazie ai contributi del PNRR, grazie alle società di Biassono e alla posizione che abbiamo... Guardate che bella intanto questa immagine, guardate che bella questa immagine. E alla posizione che abbiamo a livello di Serie A, è riuscito a ottenere dal PNRR un gruzzoletto di soldi e ha deciso di investire proprio nel palazzetto. In questo caso Biassono è molto lungimirante perché 5-6 anni fa, quando c'era solo il palasport di Biassono, il vecchio palaro Vagnati, ha pensato bene di spendere già allora parecchi milioni di euro per costruire una nuova palestra che almeno energeticamente e comunque a livello di infrastrutture fosse completamente nuova e pronta per ospitare le squadre di pallavolo e di basket. Ora è il turno del rotellismo, per cui valutato anche questa cosa dell'hockey che ormai stabilmente in quel di Biassono, abbiamo visto un po' di progetti, dovremmo presumo che entro il 2025 sia la necessità di utilizzare per forza i fondi del PNRR, so che in Comune Biassono hanno già tanti progetti in ballo e quindi ci aspettiamo di poter vedere prima possibile il nuovo palazzetto che sorgerà a fianco al palaro Vagnati e poi il palaro Vagnati dopo tanti studi. Ma i tempi di realizzazione più o meno? Si parla almeno tre anni. Tre anni? Sì, sì, sì. I tempi probabilmente tre anni e io butto lì qualcosa in più, però tutto sommato il palasport di Biassono in questo momento è tornato nella nostra gestione, la nostra casa e vabbè, per il momento noi andiamo avanti a lavorare lì e a creare i nostri atleti. Perché con Monza io sa che, chiudo un po', non voglio chiaramente creare polemica, con Monza non c'è proprio la possibilità di valutare delle alternative per tornare in città, Andrea. Allora, si è parlato con l'assessore Guidetti, con il sindaco pilotto, ovviamente hanno cercato, valutato se c'erano degli spazi donne, però le cose che io già conosco perché insomma vivo a Monza, ho vissuto a Monza per 30 anni, 40 anni, so bene quali sono le possibilità di una città come Monza. Purtroppo Monza a livello sportivo si è un po' fermata, se non fosse per il vero volley, se non fosse per il calcio Monza, assistevo giusto l'altro giorno alle archerelle dell'intitolazione dello stadio di Silvio Berlusconi, che io al di là di tutto dico sì, ok, per quanto uno possa pensare, avere il suo pensiero su questo politico imprenditore, c'è da dire che a livello sportivo non credo che nessuno possa dire niente a Silvio Berlusconi, perché dopo il Milan ha portato il Monza a livelli che nessuno ne era mai uscito, credo che all'intitolazione di uno stadio con Briaddeo possa essere il minimo che possano fare a Monza per Silvio Berlusconi e per il Monza Calcio. Sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, ma non voglio tornare più sull'argomento. Prego Andrea poi andiamo in chiusura. Sì, a Monza purtroppo non so che ci sono in ballo dei progetti per delle palestre, ecco, più che altro, però presumo che poi ovviamente trattandosi in una città di 120.000 persone con tantissime società sportive, al massimo sarà possibile magari un passaggio a livello di presenza, ecco, come allenamento, presenza di allenamenti e non di più. Andrea, è stato un piacere averti avuto qui con noi a Monza, una città da Serie A, naturalmente tienici a giornata, però continuiamo a cuore non soltanto le vicende sportive del Monza, ma anche dell'HRC Monza, che noi consideriamo tuttora parte integrante del territorio, anche se giocate qualche chilometro oltre i confini. Un abbraccio, Andrea, grazie. In bocca al lupo anche alla tua Atalanta per domani sera. Va bene, grazie a tutti e viva il lupo. Un abbraccio.